Ciao a tutti e bentornati su About Biology. Negli scorsi video abbiamo visto i vari modelli di descrivere atomi e molecole e come ultimo ci eravamo soffermati su quello di Bohr. Se ancora non li hai visti ti consiglio di recuperarli dai link che trovi qua sotto in descrizione o in ogni caso ti lascio i link dei vari video qua in alto a destra nelle schede. L'approccio di Bohr però presentava dei limiti. Questo infatti non riusciva a spiegare gli spettri di emissione degli atomi che contenevano più di un elettrone come litio o elio. Un altro aspetto riguardava invece la scoperta del comportamento ondulatorio dell'elettrone che abbiamo visto con De Broglie nello scorso video. Come poteva essere definita la posizione di un'onda? Il dualismo tra onda e particella portava con sé non pochi problemi e il fisico tedesco Werner Karl Heisenberg enunciò nel 1927 il principio di indeterminazione di Heisenberg il quale affermava che è impossibile conoscere simultaneamente e con precisione la posizione e la velocità o momento di una particella. Una conseguenza di questo principio è che per avere una misura precisa del momento di una particella dobbiamo accettare di avere una conoscenza meno precisa della sua posizione e viceversa se vogliamo misurare in modo preciso la posizione saremo molto più incerti sulla sua velocità. Applicando il principio di indeterminazione di Heisenberg all'atomo di idrogeno vediamo che è praticamente impossibile quindi conoscere sia la posizione precisa sia la velocità dell'elettrone. Bohr ha dato quindi sicuramente un contributo significativo alla comprensione degli atomi e il fatto che l'energia di un elettrone in un atomo sia quantizzata è un concetto ancora valido e indiscusso ma questo non permetteva di descrivere in modo completo il comportamento degli elettroni negli atomi. Il dualismo onda particella alla natura ondulatoria della materia servì al fisico austriaco Erwin Schrödinger per andare a spiegare la struttura elettronica dell'atomo. Schrödinger sviluppò un'equazione le cui soluzioni fornivano le funzioni d'onda e lo stato energetico degli elettroni contenuti negli atomi. Queste funzioni d'onda indicate con il simbolo psi relative agli elettroni atomici erano dette orbitali. Come nel modello di Bohr quindi, nel modello ondulatorio l'atomo è costituito da un nucleo contenente protoni e neutroni e da elettroni. In questo nuovo modello però il movimento degli elettroni intorno al nucleo, dato anche il principio di indeterminazione di Heisenberg, può essere rappresentato solo ricorrendo al concetto di probabilità. Schrödinger definì quindi la densità elettronica come la probabilità di trovare un elettrone in una particolare regione di un atomo. Quindi regioni ad alta densità elettronica andavano a definire delle regioni di spazio in cui si aveva un'alta probabilità di trovare un elettrone, mentre all'opposto si avevano delle regioni a bassa densità elettronica. Con la meccanica ondulatoria quindi al concetto di orbita di un elettrone che era proprio del modello di Bohr, si va a sostituire quello di orbitali atomici. L'orbitale atomico è quindi definito come la funzione d'onda di un elettrone in un atomo, o in altre parole, dato un elettrone di energia prefissata, si definisce orbitale la regione di spazio intorno al nucleo, dove esiste un'alta probabilità, almeno del 90%, di trovare l'elettrone dato. Quando diciamo quindi che un elettrone si trova in un certo orbitale, intendiamo che la distribuzione della densità elettronica, ovvero la probabilità di trovare quell'elettrone in quello spazio, è uguale o superiore al 90%, e ogni orbitale sarà quindi identificato da una funzione, che abbiamo detto è la funzione d'onda, che assegna alle regioni di spazio attorno al nucleo la probabilità di trovare un elettrone dotato di una certa energia. La funzione d'onda ha associate delle costanti numeriche, che sono dette numeri quantici, che consentono di definire le onde elettroniche nello spazio tridimensionale, quindi di andare a definire gli orbitali. Quindi, grazie a questi numeri, a queste costanti, riusciamo a descrivere la distribuzione degli elettroni nell'idrogeno, per esempio, e negli altri atomi, con buona approssimazione. Questi numeri quantici quindi derivano dalla soluzione della nota equazione di Schrödinger, che gli valse il Nobel nel 1933, e in generale possiamo affermare che lo stato di un elettrone in un atomo è univocamente determinato dai valori dei suoi quattro numeri quantici, che sono n, l, m e ms, che adesso vedremo nel dettaglio. Del primo numero quantico principale avevamo accennato anche nel video precedente, ma in ogni caso il numero quantico principale n può assumere valori interi di 1, 2, 3 e così via, e serve a determinare le dimensioni dell'onda elettronica, cioè quanto questa si estende intorno al nucleo dell'atomo. Quanto maggiore quindi è il valore di n, che abbiamo detto può assumere valori interi da 1 a infinito, più grande sarà la distanza media dell'elettrone dal nucleo. Con n uguale a 1 si parla di primo livello, con n uguale a 2 il secondo livello, con n uguale a 3 il terzo e così via. Oltre alle dimensioni dell'onda elettronica però, questo numero quantico è legato all'energia dell'orbitale, che aumenta all'aumentare di n. Il numero quantico secondario, l, o numero quantico angolare, definisce la forma degli orbitali e divide quindi i livelli elettronici in gruppi di orbitali, che sono detti sottolivelli. Il valore di n andrà quindi a determinare i possibili valori di l. Per un certo valore di n, infatti, l può assumere valori interi che vanno da 0 a n-1. E se n è quindi uguale a 1 avremo n-1 che è uguale a 0 e quindi un solo valore di l permesso e ancora un solo sottolivello. Per n uguale a 2 invece l potrà essere uguale a 0 o uguale a 1. Dato che l può assumere dei valori interi abbiamo detto che vanno da 0 a n-1. Nel livello 2 ci saranno quindi due sottolivelli, il sottolivello 0 e il sottolivello 1. Ma per non far confusione con tutti questi numeri, i valori di l vengono espressi da delle lettere. Dato che ai diversi valori di l corrispondono orbitali di forma diversa e sottolivelli. Per l uguale a 0 avremo il sottolivello S, per l uguale a 1 il sottolivello P, per l uguale a 2 il sottolivello D, per l uguale a 3 il sottolivello F, per l uguale a 4 il sottolivello G, per l uguale a 5 il sottolivello H e poi abbiamo altre lettere ma raramente negli studi che faremo ci serviranno. Una cosa importante invece che rivedremo anche più avanti è che per disegnare un particolare sottolivello si scrive il valore del numero quantico principale seguito dalla lettera minuscola corrispondente al numero quantico secondario. Quindi per esempio con n uguale a 2 e l uguale a 1 avremo il sottolivello 2p. Il terzo numero quantico è il numero quantico magnetico. Questo descrive l'orientamento dell'orbitale nello spazio o meglio questo suddivide i sottolivelli in singoli orbitali e descrive quindi l'orientamento spaziale di un orbitale rispetto agli altri. m può infatti assumere dei valori che sono compresi tra meno l e più l. Per l uguale a 1 i valori possibili di m saranno meno 1, 0 e più 1 e questo significa che il sottolivello s con l uguale a 0 comprende un solo orbitale sferico. Il sottolivello p con l uguale a 1 comprende 3 orbitali di pari energia che sono orientati in modo differente. Il sottolivello d con l uguale a 2 comprenderà 5 orbitali e il sottolivello f con l uguale a 3 ne comprenderà 7. Non preoccuparti perché di tutte queste forme e dell'energia parleremo nel prossimo video quindi ti consiglio di iscriverti se non l'hai fatto per supportarci e per non perderti i prossimi contenuti. Abbiamo infine il numero quantico di spin. Gli esperimenti che vennero fatti sugli spettri di emissione dell'idrogeno e del sodio hanno dimostrato che le righe degli spettri di emissione si possono suddividere ulteriormente tramite l'applicazione di un campo magnetico esterno. Dato che dalla fisica sappiamo che una carica in movimento genera un campo magnetico, l'elettrone si comporterà come un magnete che muovendosi in senso orario o antiorario darà due possibili vettori di campo magnetico. Il numero quantico di spin indica quindi il senso di rotazione dell'elettrone attorno al proprio asse e questo può assumere valori di più un mezzo o meno un mezzo. In realtà c'è da capire che gli elettroni non ruotano fisicamente attorno al proprio asse ma le loro proprietà magnetiche sono le stesse che avrebbero se effettivamente lo facessero ma qual è la forma degli orbitali? Come sono disposti? Che energia hanno? Che cosa si intende per configurazione elettronica? A queste e molte altre domande risponderemo nei prossimi video. Ti consiglio quindi di iscriverti al canale per non perderteli e di continuare a seguire About Biology anche sulla pagina Instagram e il gruppo Telegram. Trovi sempre i link qua sotto in descrizione. Noi possiamo sentirci sempre qua sotto nei commenti per farmi sapere se il video ti è stato d'aiuto o se ti è rimasta qualche domanda o dubbio a riguardo e come sempre grazie per l'attenzione e a presto da About Biology.